col naso portafortuna non lo so sono disperato dopo quel gigly puff ho capito che non è una giornata buona allora qui non possiamo urlare non possiamo urlare perché c'è silenzissimo e ragazzi benvenuti in questo nuovo video di pokemon go e anche oggi andremo a schiudere ben nove uova esattamente come vi avevamo promesso facciamo un altro video dove schiudiamo le uova dato che le incubatrici durano tre volte ne abbiamo preparato altre nove come vedete sono qua allora ci manca un chilometro da farapiedi ne abbiamo molte da due questa volta mi sa che ne abbiamo anzi no tre ok quindi abbiamo quattro da cinque e due da dieci allora in quella da dieci lapras punta ma stavo per dire io la scorsa volta abbiamo chiamato snorlax l'abbiamo trovato quindi stavolta per farla incrociamo le dita altrimenti si chiude proprio subito finisce il video finito ne ne apriamo neanche le altre non ne voglio neanche vedere non esagerare sono sempre curiosa no sono troppo curiosa è impossibile resistere era una minaccia solo per trovare quello che vogliono ok ok si 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 mi piace mi piace magari ci cascano comunque in ogni caso ci andiamo nella zona di piazza giovanni così almeno troviamo qualcosa di carino e speriamo bene dai almeno qualche pokemon salvatico l'altra volta abbiamo trovato pikachu questa volta mi accontento di blastoise proprio l'hai sparata grassa no soprattutto lì in piazza giovanni c'è una regola lo devo nominare una volta a video blastoise se non lo nomini una volta a video si evoca bubu sette no tanto secondo me non lo trovi uguale perchè è davvero difficilissimo mi dicevamo in piazza giovanni soprattutto si trovano tantissimi pokemon d'acqua devo dire una cosa abbiamo sentito che la prossima cosa che aggiungeranno nella prossima pace dovrebbero dovrebbe ah non è neanche sicuro non si sa mai con loro per me non si sa mai ha ragione non si sa mai quindi diciamo dovrebbero aggiungere la possibilità di avere un pokemon che ci segue che sarebbe appunto fantastico e non solo segue esteticamente che carino praticamente possiamo selezionare un pokemon tra tutti quelli che abbiamo catturato e ogni due chilometri che ci segue il pokemon ogni due chilometri che facciamo camminando esatto praticamente ci da una caramella di quel pokemon che non è che sia allora questo non è un gran che perchè comunque due chilometri camminando sono tanti sono davvero tanti è una sola caramella un po' po' però almeno abbiamo compagnia però almeno si è la compagnia del pokemon che potrebbe essere comunque una cosa carina una magra consolazione vabbè non mettono altro almeno apprezziamo le poche cose che ci sono no? va bene va bene ok allora mi faccia vedere quanto stiamo andando veloci ma quello era un ivi? sì 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 c'è un ivi no non è da catturare nei paraggi ah ecco perché scusami ti sembra che possiamo trovare subito l'ivi? eh no infatti mi sembrava troppo bello questo è vero allora siamo a 9.2 nei commenti mi hanno detto che nelle loro parti trovano tantissimi ivi quindi ho deciso di abbandonarti andare nelle loro città e catturare tantissimi ivi mi dispiace ma io te ne posso fare evolvere uno oggi ah sì? che cosa lo evolviamo? io non mi ricordo più i nomi cioè li ho letti talmente tante volte che non me li ricordo più ma è vera questa cosa dei nomi perché non l'ho capito no sì l'avevano confermato perché a volte è stato smentito a volte è stato confermato no 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 quindi sinceramente vabbè allora facciamo che cerchiamo tipo su google i nomi e poi voglio un Vaporeon lo vuoi un Vaporeon voglio un Vaporeon aspetta che ti dico l'ivi più potente che abbiamo allora Vaporeon no me lo sono ricordata se non lo ricordo male dovrebbe essere Rainer io non mi fido di te Rainer sì ma io non rischio secondo me sì vedi abbiamo 415 di massima potenza e se noti abbiamo 23 caramelle di 25 ma abbiamo questo Flareon e un sacco di ivi da buttare quindi lo possiamo evolvere da buttare, da trasferire non parliamo poverini poverini la domanda che mi faccio è se 415 basta o se dovremmo essere saggi e aspettare di più diciamo capisci non lo so non lo so perché in effetti io ricordo di aver visto almeno potto di ivi da 700 non è un ivi ma è un pokemon che io trovo più carino di ivi cosa hai trovato? non me l'hai ancora fatto vedere? Vulpix sì anche lui è troppo carino anche Vulpix è uno di quei pokemon che credo non sia raro ma qua lo è cioè lo troviamo noi non lo troviamo mai però ne abbiamo caramelle lo sai? sì lo sai che ci stiamo iniziando ad avvicinare ogni tanto ci è capitato di trovarne qualcuno non spesso però ci è capitato 40 di 50 40 di 50 e l'evoluzione è tra le più belle di tutto pokemon go cioè dei pokemon che esistono per ora sono d'accordo sono davvero d'accordo sono davvero d'accordo comunque siamo venuti qua e non c'è nulla di carino ci dobbiamo accontentare delle nuove uova oggi mi sa hashtag me una gioia no eh dai sì no devi mettere caccia grossa perché così porta fortuna al momento penso che non prenderemo quasi nulla speriamo nelle uova ma quella non è una cazzo cioè le trovi nelle uova quella è una schiuda grossa chiusura grossa chiusura grossa vai mi piace chiusura grossa non riesco neanche a dirlo quindi pensa come può essere guarda questa palestra dei gialli non l'avevo mai vista l'ultima evoluzione di lui aspetta dov'è? sta scattando il gioco guarda guarda com'è cattivo è cattivissimo lui sì che è da risa inizia che è carinissimo dolce dolce e poi diventa cattivissimo un po' come me che sembro dolce però in realtà so cattivissimo sì ma non incuti la paura che incute lui e invece sì te lo confermerà chiunque che io incuto molta paura secondo me tu pensi tu pensi di incuterla ma poi non funziona capito? te lo confermerà chiunque non ti preoccupa anche se hai paura di me guarda la precisione di pokemon go pokestop che si chiama cascata del parco della musica e c'è magical più sopra perfetto perfetto vedi sti nelle cascate è giusto che ci stiamo a magical non riesco a cliccarlo magicarp magicarp vai ok il mio dittino è magico dai? no 136 speravo che finalmente avremmo trovato il magicarp d'oro quello che verrà evoluto quando mai avremo le 400 caramelle quindi mai quindi mai della vita però neanche no ci è capitato di nuovo scarsina non ce ne facciamo un gran che capita 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 mi dispiace allora caramelle ne abbiamo 57 metti bene sarebbero anche tante per un altro pokemon ma in questo caso no lo sai se ne vogliono davvero tante non ci possiamo fare molto stiamo attaccando la palestra quindi ci sono altri giocatori si 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 per di più è una palestra dei blu quindi dovremmo difendere sai che la strada che ho scelto non è casuale? eh perché dove stiamo andando? una cosa che c'è qua vicino non mi conosce abbastanza ragazzi non mi conosce un mcdonald no e che cosa? si mcdonald ecco avevo ragione eh ho guardato lì in alto mi sono ricordata che qua vicino sono le aspetta le 12 e 24 dimmi che non è l'orario del mcdonald si mi pensi no ti do ragione me lo male me lo male ma ci andiamo davvero? eh mi stai di si a prenderci qualcosa di buono va a me ok ci siamo ci siamo ci siamo dopo due ore di attesa finalmente vado io ci siamo vai io e lo manca? non l'ho mancato ce l'ho fatta l'hai mancato speriamo 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 ma sei serio? ma fai parte dei 10 km tu ma fai schifo 5 caram... ce l'avevamo? ce l'avevamo già? ah quindi neanche per il po' che adesso vabbè vabbè allora vai tu col secondo aspetta col naso portafortuna non lo so sono disperato dopo quel gigli puff ho capito che non è una giornata buona uuu uuu allora qui non possiamo urlare non possiamo urlare perché c'è silenzissimo bello cazzo oh mio dio non ce l'avevamo vero? no assolutamente no che poi anche questo so di un sacco di persone che lo trovano fisso noi non lo troviamo mai no non è così facile facile è abbastanza raro e soprattutto di questa generazione è il mio pokemon preferito quindi sinceramente l'apro se può anche schiattare per un shitter shitter shushishitter dirlo come voi ok in realtà mi criticano per la pronuncia dei pokemon ma io non è solo quei pokemon è con qualunque cosa allora lui che sia italiano che sia inglese che sia tedesco se ci fate caso nei video lo rimproverò sempre per la pronuncia e proprio problemi a pronunciare le cose ma pazienza aspetta 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 perché dobbiamo essere pignoli scusa ce la facciamo valutare questo bel pokemon ok è 1100 è una meraviglia assoluta che esempio è letto è letto questo lo scrivono solo quando vedono a me vedo che la statistica attacca il suo punto forte non è male neanche la sua statistica di pesa delle statistiche così non si sono mai viste prima incredibile e con questo ho concluso quindi è forte sì è mica male mica male io me lo potenzio ma sto potenziando più 29 buono buono dai allora prima due uova diciamo che non è andata malissima uno schifo e uno figo dai quindi diciamo che è una cosa abbastanza equa ok attenzione perché potevamo trovare tutti e due schifo dove siamo torna indietro ci sono le altre uova ok perché mi hai fatto tornare indietro è perché non mi piaceva stare sotto all'albero vabbè ma c'è fresco si sta bene sono tornato un troppo indietro perché mi sono accorto che sentivo foglie muoverti lì ci sono lucertole vado io ok ma hai portato sfiga no stai zitta stai zitta non so niente se da due o da cinque neanch'io baa sembrava qualcos'altro non lo faccio più porto sfiga si hai ragione porto sfiga 11 caramelle quindi manco a dire quello 500 di potenza con il ginocchio ok sei scandaloso io ti dico la verità sei scandaloso guarda 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 il ginocchio no no non funziona più funziona una volta no perché ho usato il naso magari il naso rifunziona non si sa mai sembra anche serio lo intitoleremo questo video 9 modi per schiudere le uova ma 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 non commentiamo esatto non commentiamo 10 caramelle manco a dire che ci dà tante caramelle ehm il mento il mento è una buona no no ok non ho parole non ho parole devo stare chiedendo dal polliccio del mio piede no non funziona più devi smetterla te lo dico io devi smetterla oh no 616 almeno è potentissimo ok ok ci mancano le caramelle perché ce ne poteva dare un bel po' di più però almeno è potente ce lo fai anche stando zitto davvero c'è una vergogna che altrimenti mi critichi questo è buono guardalo hai visto hai visto dimmi almeno che il force 650 che è lì vi che stava ammazzatando 600 sì evolviamo boom pronta ah no dobbiamo dargli il nome eeeh reiner sicura sì sì sei sicura sì cioè ti giuro sì ti giuro che se non esce ti ammazzo ti stai giocando la vita allora era reiner perché tipo sparchi è per l'altro non mi ricordo quello di fuoco mi dispiace eeeh mi dispiace reiner così era giusto sì credo di sì non è stato sicuro però a me piace che te la rischi sinceramente ok ok vado sì down down aiuta ho troppo guardalo guarda la faccia quando si è volta è un qualcosa di epico te lo dico così se esce un joltion sei perdonata se esce un flareon te ne vai ok ho avuto ragione quanto è di potenza quanto è quanto è quanto è vediamo 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 sì perché non ce l'avevamo esatto ok ok mica male ok aspetta che ce la facciamo valutare stai scherzando anche lui anche lui se vuoi passare nel compasito lui è una meraviglia assoluta che è sempre ce lo dice sempre la statistica attacco il suo punto forte devo dire che le sue statistiche sono eccellenti le due dimensioni sono nella media concluso buono 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 ok ma ne abbiamo ancora bellissimo bellissimo vai 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 il naso sta portando sempre bene qualcosa di bello che vergogna che vergogna trasferimento senza neanche pensarci questi saranno quelli da due comunque sii non mi ricordo più due a terra da due si eh si eh si questo guarda lo mettiamo nella copertina perché il pokemon più etico che abbiamo trovato 8 caramelle un altro a vergogna sono finite non mi ricordo quante le abbiamo fatte sono già finite dici io mi diverto io mi diverto ad aprire uova dai tu ce ne ho finite finite le abbiamo aperte tutte dai non è malissimo sai cosa facciamo adesso andiamo a consolarci mangiando a mcdonald assolutamente si ok ci siamo davvero presi i mcdonald fai vedere la busta guardate guardate cosa tutto c'è allora io sono un po' indecisa aspetta che se no non si sente sai perché perché io ho preso le p.m.il dove ad aprire queste p.m.il vai ma non ci riuscirò mai ce la puoi fare non ci riuscirò mai non so cosa si vedrà nel mentre allora sono me qui si c'è 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 l'ho vista dove infila la mano e tira ma dove ascoltami eh fai tu ecco allora si perché voi sapete che io non amo il mcdonald però quando Steph mi prende le p.m.il per le sorprese io non posso dire di no sono la persona più felice del mondo e mi stavo arrabbiando con la casera perché non l'ho vista mettermi la sorpresa e quindi gli stavo dicendo ma secondo me non mi ha messo la sorpresa e lui mi faceva e ha fatto bene ma che cosa guardate il super mario lo volevo troppo è carinissimo è carinissimo eh sì era fondamentale è vero lo volevo tantissimo sono molto felice lo metterò nella nostra libreria nella nostra libreria dove abbiamo tutte le cose a tema videogiochi e a tema anime super mario super mario ci sta benissimo in ogni caso ci stanno accecando sì mi è entrato tipo un muscerino credo ok in ogni caso non so verso dove dobbiamo andare qua vieni 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 qua dicevo in ogni caso ragazzi ci fermiamo così per questo video prossima volta sono indeciso se di andare al Poetto o a Monteclaro o a Monteclaro o anche al Porto perché anche al Porto le 3-4 i 3-4 poche stop attivi fanno gola anche quelli secondo me potrebbero essere molto carini siamo davvero indecisi perché a Monteclaro io volevo andare perché sapevo che si può trovare Shiter quella che abbiamo trovato oggi eh sì ma l'abbiamo trovato quindi non è che ci sia molto altro ci sarebbe oggi sono anche tanti Bulbasaur per provare ad arrivare alla terza evoluzione perché sì ci hanno detto che comunque si trovano a parte i Bulbasaur base trovi anche se Visaur e Venosaur ci hanno detto anche il fatto che si trovano molto a Monteclaro quindi vediamo un pochettino comunque decidiamo in questi giorni tanto il prossimo l'avete visto ormai i Pokémon lo facciamo ogni 3-4 giorni speriamo che non mi riesca la faccia così ci divertiremo anche a mettere i Pokémon che ci seguono assolutamente sì e niente ci fermiamo così ragazzi ciao ciao